Hanno lavorato per ore in mezzo alla devastazione in un paese morto, fantasma. Prima a scavare fra le macere, poi a stoccare cibo e altri beni nel magazzino. Sono i primi soccorritori molisani arrivati ad Amatrice poche ore dopo il sisma. Sette ragazzi arrivati da Termoli, Campobasso e Guglionesi. Sono lì da ieri pomeriggio e dopo quasi un giorno intero di lavoro si sono ricongiunti alla colonna mobile della protezione civile del Molise a Torrita, frazione di Amatrice. Adesso però c'è un problema. Siamo bloccati, dicono, non sappiamo se e quando potremo montare le tende e la cucina mobile. L'Organizzazione Generale dei Soccorsi nei luoghi del sisma non funziona come dovrebbe. C'è ancora molta confusione, tanto che ci sono unità regionali che potrebbero lasciare la zona di Amatrice quanto prima. Stanno cercando solo cadaveri, continuano purtroppo. Le speranze di trovare persone ancora vive è minima. Così parla il consigliere regionale delegato alla ricostruzione Salvatore Ciocca, partito questa mattina presso Amatrice. La destinazione delle tende molisane è Torrita, una piccola frazione del comune rietino in cui il terremoto ha fatto più vittime. Intanto in Molise prosegue la raccolta di viveri e beni di prima necessità. Non mancano i bei gesti, come quello della ditta del giudice di Termoli. La famiglia proprietaria dell'azienda ha donato 1.500 litri di latte UHT che saranno distribuiti agli sfollati dei paesi devastati dal sisma in provincia di Rieti. Una buona idea è anche quella di inviare farmaci. Lanciato un appello dai soccorritori, si cerca una ditta di trasporti o chiunque disponga di un furgone grande e che abbia buona volontà e non chieda costi aggiuntivi per il trasferimento dei beni dal Molise alle zone terremotate. Chiunque voglia offrire il proprio sossegno potrà contattare il numero 340 722 1112.